Il campionato del 2013-2014 è dominato da una squadra spaziale, il Pinerolo FD, ma noi non sfiguriamo perché arriviamo in secondi. In quell'anno ricordo che si fecero male il buon Gianfranco, lasciò il campo perché fine della stagione sportiva il buon Romano con 63 gol in 84 partite, quindi indimenticabile. Finimo secondi perché comunque arrivarono forze nuove, il buono Junior, Poli, Fabietto e Cristini. Grazie a questa linfa nuova riusciamo comunque a mantenere in testa la classifica da arrivare secondi.